Sarà sicuramente una bella partita perché si affrontano la prima e la terza della classe quindi è una partita molto sentita tra due grandi squadre secondo me però più importante, sicuramente importante ma al pari di tutte le altre insomma non la caricherei così tanto diciamo che è molto più importante per il Cagliari perché ovviamente se dovesse avere la meglio su di noi sicuramente chiuderebbe il discorso promozione Quindi la pressione è tutta sul Cagliari? Pressione insomma, mi piacerebbe stare nella posizione del Cagliari quindi pressione relativa nel senso che il Cagliari sa benissimo che vincere questa partita vorrebbe dire tanto vorrebbe dire staccare al 100% 13 punti la terza insomma per una squadra come il Cagliari sarebbe tanta roba Campagnaro non parte non partono crescenzi, Campagnaro, Verde, Coda, Fornasier dispiace non avere tutti gli effettivi perché ovviamente un allenatore vorrebbe sempre averli però io sono un positivo, io non mi faccio la testa nella mia vita quando ho avuto delle difficoltà ho sempre cercato di trovare dentro le difficoltà delle opportunità e quindi la partita inizia 11 contro 11 e noi ci dobbiamo giocare le nostre carte, quelle che abbiamo le nostre potenzialità contro una grande squadra la nostra mentalità rimane quella al di là di chi c'è e chi non c'è cercheremo di fare la nostra partita cercheremo di vincere la partita il vincente aggira gli ostacoli e il perdente si ferma davanti agli ostacoli noi cercheremo di aggirarli grazie a tutti